Musica Amo i prodotti irlandesi, la qualità del prodotto dal loro proposto è di altissimo livello. E hanno un microclima e fa crescere molto di più l'erba e di conseguenza gli animali vivono più liberi, vivono più movimento e di conseguenza poi la carne è nettamente più sana, più giusta e migliore. Musica Che si scioglie in bocca, una tenerezza naturale data proprio da questo manzo, tra l'altro questo è di razza Areford, quindi è un manzo strepitoso. Musica 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 Musica